E' stato davvero un 2013 da ricordare, quello di Mael Bombaci, premiata come migliore amazzone siciliana alla festa del Cavaliere che si è tenuta nei giorni scorsi a Terrasini. La manifestazione ha coinvolto oltre 850 tesserati e ha visto la partecipazione dei presidenti della Federazione Italiana Sport Equestri di Sicilia, Gaetano Di Bella e Calabria, Roberto Egidio Cardona. La località della provincia di Palermo ha ospitato una kermesse voluta per celebrare i migliori talenti dell'ultimo triennio in cui l'isola ha sfornato alcune promesse che sono riuscite a imporsi anche a livello nazionale e internazionale. Mael Bombaci è stata eletta miglior cavaliere della Sicilia per il 2013 grazie ai risultati ottenuti nell'ultimo anno solare in cui ha collezionato il primo posto nel campionato italiano juniores, nel campionato italiano tecnico e la medaglia d'oro alle Poniadi. Il successo di squadra è un secondo posto personale nel trofeo natale di Somma Campagna, le ultime soddisfazioni di un'annata in cui ha posto le basi per un futuro ancora più ambizioso. Cresciuta presso il circolo ippico Paolo Ferretti di Faro Superiore, Mael è entrata a far parte della Young Dressage Academy di Marcon, dove è affidata alla sapiente guida del tecnico federale Vanessa Ferluga, presente anche a Terrasini, dove ha apprezzato l'ottima organizzazione e la location prescelta per la festa del Cavaliere. La prossima stagione agonistica scatterà a metà febbraio con la Coppa Italia. In ottica europei, prevista la partecipazione a due gare internazionali in Italia, che dovrebbero essere quelle di Arezzo e Somma Campagna nel Veronese, tre le tappe disponibili all'estero, dove la Bombaci dovrà recarsi almeno due volte, a Vida-Uban, nella costa azzurra francese, a Lipizz, in Slovenia e in Polonia. Infine, di concerto con la Ferluga e il suo staff, la 13enne messinese dovrà decidere se partecipare al campionato italiano esperti o a quello assoluti. A suon di risultati, insomma, potrà proseguire la sua scalata.